Arrestati i fiancheggiatori dell'ex latitante Leonardo Abruzzese, 15 arresti tra Cosenza e Bari ricostruiti, passaggi della fuga da Spezzano Albanese a bordo di un'ambulanza finita a Bari il 17 ottobre 2023, è considerato il broker degli zingari di Cassano all'Oionio. Omicidio nel regino ucciso un 21enne, un colpo di pistola alla testa è stato fatale, Stefano Cirillo è stato trovato ieri senza vita incontrato a Monzoreto nel comune di San Pietro di Caridà. Autonomia differenziata, parla il governatore Occhiuto, il testo torni in Parlamento, il presidente della regione commenta le determinazioni della Corte Costituzionale sul DL Calderoli, Forza Italia e Tajani dice hanno avuto sempre una posizione equilibrata. Aeroporti e Porto un trend di crescita, il report di Banca Italia segnala l'aumento dei passeggeri negli scali della Calabria e l'aumento del 10% del traffico nell'infrastruttura di Gioia Tauro. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere TG, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione e da Fabio Benincasa. L'apertura di oggi dedicata alla cronaca con l'arresto dei presunti fiancheggiatori di Leonardo Abruzzese, meglio conosciuto in ambienti criminali come Nino Castellino che è stato latitante per diversi mesi, poi è stato catturato dal comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza e quello di Bari, proprio nella cittadina pugliese abruzzese che è considerato broker del clan degli zingari di Cassano all'Oionio e attualmente in carcere. Restavano però da completare le indagini sui fiancheggiatori e oggi sono arrivate ad una conclusione con l'operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Presi i presunti fiancheggiatori dell'ex latitante Leonardo Abruzzese, detto Castellino broker del clan degli zingari di Cassano all'Oionio. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza con il coordinamento della DDA di Catanzaro hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati accusati di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata dalle modalità mafiose. L'inchiesta ha ricostruito i passaggi della latitanza di Abruzzese. Il 17 ottobre 2023 sarebbe stato trasferito dal comune di Spezzano albanese alla città di Bari a bordo di un'ambulanza riconducibile ad un'associazione del Cosentino e condotta da un volontario di soccorso in modo da eludere più agevolmente eventuali controlli di polizia durante il tragitto. Nel capoluogo pugliese ha quindi potuto contare sull'ospitalità garantitagli all'interno di una villa riconducibile a soggetti di quel contesto territoriale inseriti nei circuiti relazionali degli abruzzese dove è stato rintracciato in occasione del suo arresto eseguito il 6 novembre 2023 dei carabinieri dei comandi provinciali di Bari e Cosenza. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di cocaina ed eroina operante nei comuni di Spezzano albanese e Terra Nuova da Sibari. Sono state ricostruite infine una estorsione ed una tentata estorsione aggravate dal metodo mefioso posti in essere i danni di un assuntore di stupefacenti affinché saldassi un debito pari 25 mila euro contratto per pregressi e acquisti di droga. Continuiamo con la cronaca per darvi conto di un omicidio che è avvenuto nel Regino. Una giovane di 21 anni Stefano Cirillo è stato trovato senza vita ieri in un paese appunto della provincia di Reggio Calabria San Pietro di Caridà. Una 21enne è stato ucciso ieri sera con un colpo di pistola alla testa incontrata a Monsoreto nel comune di San Pietro di Caridà nel Regino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Una volta giunti sul luogo i militari hanno trovato il cadavere di Stefano Cirillo di Cinque Frondi già noto alle forze dell'ordine per oltraggio a pubblico ufficiale. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. Nell'aprile scorso un operaio a 24enne, Domenico Pedisano, era stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria, sempre a San Pietro di Caridà. L'omicidio, secondo quanto si è preso, è stato commesso in una zona di campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione scientifica per i rilievi nella speranza di trovare elementi utili e di indirizzare le indagini per risalire all'autore del delitto. Ancora la cronaca, torniamo a parlare dell'inchiesta Sistema Rende, lo ricorderete, l'inchiesta che aveva coinvolto alcuni esponenti politici della città di Rende per presunti intrecci con il clan Lanzino Rua. Ebbene, si arriva al terzo grado di giudizio. La Procura Generale di Catanzaro infatti ha chiesto alla Corte di Cassazione di rivedere le posizioni dell'ex sindaco di Rende Sandro Principe di Umberto Bernaudo, Pietro Paolo Ruffolo e Giuseppe Gagliardi. I quattro, lo ricordiamo, sono stati assolti in primo e secondo grado. E adesso la morte di Ilaria Mirabelli, vi stiamo raccontando giorno dopo giorno nel corso del nostro spazio di informazione, le indagini, la prosecuzione delle indagini per capire cosa realmente sia accaduto quel 25 agosto in Sila, incidente stradale mortale che ha tolto la vita alla 38enne Ilaria Mirabelli. Solo qualche ferita invece per Mario Molinari, il compagno di quest'ultima che è iscritto nel registro degli indagati. Ebbene, ieri i RIS di Messina hanno completato gli ultimi esami irripetibili su una traccia ematica e un capello rivenuto all'interno dell'autovettura protagonista del tragico impatto. Adesso restano le consulenze da depositare, poi la procura di Cosenza si determinerà sul caso. Si sono svolti nella giornata di ieri gli esami irripetibili dei RIS di Messina. Ora occorrerà attendere le determinazioni della procura di Cosenza a seguito del deposito delle consulenze per avere dettagli certi su quanto è accaduto lo scorso 25 agosto in Sila e far luce sulla morte di Ilaria Mirabelli. Tra qualche giorno scade il termine fissato per la consegna delle relazioni redatte dai consulenti e dai medici legali per le quali è atteso il deposito. I uomini del reparto investigazioni scientifiche hanno analizzato un capello utile probabilmente a fugare i dubbi su chi dei due occupanti dell'auto si trovasse alla guida al momento del tragico impatto. Sotto la lente di ingrandimento ha anche una traccia ematica. La 38enne è deceduta sul colpo. Viaggiava in auto insieme al compagno di 44 anni, Mario Molinari. Quest'ultimo ha riportato lievi ferite ed è indagato dalla procura con l'accusa di omicidio stradale, mentre il corpo senza vita della 38enne è stato rinvenuto a 22 metri e mezzo di distanza dall'auto finita in un terreno dopo l'incidente. Il nodo ancora risolto riguarda chi dei due fosse al volante al momento del tragico impatto. Molinari ha sempre sostenuto di essere passeggero, mentre la famiglia di Mirabelli ha sollecitato indagini e rilievi perché convinta dell'esatto contrario. E ancora la cronaca, il terribile omicidio, la paura di ritorsioni, la consapevolezza che niente sarà più come prima, elementi che hanno avuto un peso enorme sulla scelta di collaborare con la giustizia di Andrea Beretta, l'ormai ricorderete ex capo ultra della curva nord dell'Inter che è finito in carcere per l'uccisione del rampollo d'Indrangheta. Totò Bellocco, ucciso mesi fa nel Milanese. La notizia è rimasta top secret per alcuni giorni, poi ieri sera è stata diffusa dai giornali. Beretta dunque collabora con la giustizia. L'omicidio di Bellocco aveva aperto una voragine sotto i piedi dello storico amico e fatale esecutore Beretta lasciando dunque tanti ancora interrogativi da sciogliere. Vedremo cosa dirà Beretta ai magistrati e soprattutto le sue confessioni potrebbero aprire a nuove indagini sul rapporto presunto o vero tra la criminalità organizzata e le curve del tifo milanese. Noi cambiamo però argomento e passiamo alla politica perché sempre nella serata di ieri è arrivata una notizia importante, le determinazioni della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata. Alcune disposizioni, dice la Corte, sono illegittime ed è arrivata anche la dichiarazione immediata del governatore della Calabria Occhiuto. Avevo chiesto una moratoria, dice adesso, la impone, la consulta, i dettagli nel servizio. La Corte Costituzionale ha accolto in modo parziale il ricorso presentato contro l'autonomia differenziata dalle regioni a statuto ordinario, la legge che consente cioè alle regioni di chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. A presentare ricorso erano state le regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. La presidenza del Consiglio aveva difeso la legge insieme con atti specifici delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. In particolare, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata, considerando però illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Le norme dichiarate illegittime cadono, non sono più in vigore. Per i giudici, in buona sostanza, l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. Avevo suggerito al governo un surplus di riflessione e una moratoria sull'autonomia differenziata. La moratoria, con molta più autorevolezza, dal sottoscritto la impone la Corte Costituzionale. Così il presidente della regione Canabria, Roberto Chiuto, ha commentato la decisione della Corte Costituzionale. Il testo, aggiunge Chiuto, deve tornare in Parlamento e ci sarà spazio per accogliere i rilievi e svolgere il giusto approfondimento di tutte le questioni, come poteva essere fatto mesi fa, senza arrivare a questo punto. Sono arrivati anche i commenti da parte dell'opposizione al governatore Occhiuto e in questo caso le parole di Nicola Irto, che è segretario regionale della PD Calabrese ma anche senatore della Repubblica. Roberto Calderoli dice Irto in una nota dovrebbe dimettersi ora che la Corte Costituzionale ha rilevato gravi profili di incostituzionalità nella legge sull'autonomia differenziata, su cui lo stesso ministro e la Lega avevano forzato la mano per brama elettorale con Lavallo. Il responsabile di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani dice Irto, che poi sottolinea ancora nella nota, per adesso è fallito il tentativo del centro-destra di cancellare l'unità del Paese. Noi restiamo a parlare ancora di politica ma dando un taglio positivo soprattutto per quanto riguarda l'andamento economico dei porti e degli aeroporti in Calabria. Lo dice, lo certifica Banca Italia, un sensibile trend di crescita per quanto riguarda sia lo scalo portuale di Gioia Tauro e sia per quanto riguarda invece gli aeroporti della nostra regione. Indicatori positivi per la Calabria per quanto riguarda i trasporti. Il rapporto sull'andamento congiunturale dell'economia calabrese stilato dalla Banca d'Italia consegna un quadro confortante sotto diversi aspetti con riferimento al primo semestre del 2024, il regge temporale esaminato dalla filiale di Catanzaro dell'Istituto. Bene il traffico aereo anche nella sua implicazione turistica, se è vero che i passeggeri transitati negli aeroporti regionali nei primi nove mesi dell'anno sono cresciuti del 2,3%. Al calo della componente domestica si è contrapposto l'aumento dei flussi esseri che è stato favorito dall'incremento di voli internazionali, riferibile in gran parte alle nuove rotte introdotte sullo scalo di Reggio Calabria. Continua a volare poi l'infrastruttura per eccellenza della Calabria, il porto di Gioia Tauro, nonostante alcune scelte normative, soprattutto europee, che sulla carta avrebbero dovuto penalizzarla. Nel porto di Gioia è continuata la fase di crescita iniziata nel 2019. La movimentazione di container nei primi nove mesi dell'anno è salita del 10,5% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, quando era cresciuta del 5%. Prima di salutarci c'è ancora spazio per un ultimo servizio, è arrivata la risoluzione consensuale tra la regina e l'ex tecnico ormai, Rosario Pergolizzi. La società Amaranto ha già scelto il vice, si tratta di mister Trocini che ieri ha diretto la prima seduta di allenamento ma ha trovato anche il tempo di presentarsi alla stampa. Lo sentiamo. Dopo aver accettato l'anno scorso, dopo essere stato qui l'anno scorso in una stagione in un'annata veramente complicatissima, per me è stato molto facile accettare di nuovo Reggio, prima di tutto perché sono stato bene, secondo perché, come ho detto in qualche altra intervista in passato, mi è dispiaciuto molto non poter continuare un lavoro iniziato, faticoso, faticosissimo e quindi non ho avuto dubbi nell'accettare questa proposta perché ritengo, come ho ritenuto in passato, Reggio è una grande piazza. Io non avrei accettato altro, se non una regina in questa categoria assolutamente, l'ho detto anche questo, più volte, in più, in più, insomma, un campionato apertissimo, una squadra molto, molto nostra, molto competitiva, quindi insomma, penso sia stato assolutamente facile accettare. Ed era questo il nostro ultimo servizio, vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione, l'invito è a rimanere sintonizzati sul canale 75 del Digitale Terrestre, sull'altro Corriere TV per seguire tutti i nostri programmi, le edizioni ovviamente future del TG con tanti aggiornamenti, news e servizi sulla Calabria. Grazie ancora per la cortese attenzione. Grazie.